Ci sono oltre 300 espositori, nei 7 padiglioni ci sono di tutto, dagli accessori ai ricambi, a vetture. Giunta alla ventesima edizione, Arezzo Classic Motors si conferma una delle mostre mercato più vivaci dell'anno. 20.000 metri quadrati di esposizione divisi in 7 padiglioni, una vasta area dedicata ai veicoli in vendita, ricambi, accessori, vintage, automobili ed editoria specializzata. Anche stamattina c'era una nutrita fila alle biglietterie fino dalle 8.30 quando abbiamo aperto e questo ci conforta perché comunque sta dimostrando sempre più di essere la prima manifestazione dell'anno e comunque interessante per il pubblico e anche per gli espositori. Stamattina sono entrate anche le scuole e è stata una cosa molto interessante perché sono entrati più di 800 ragazzi dei vari istituti di Arezzo, quindi altre cose da vedere, ci sono delle tematiche comunque legate al passaggio della Mille Miglia di Arezzo e a quello che per la prima volta la Mille Miglia passerà da Cortona, che per il nostro ambiente è una cosa molto importante. È una manifestazione di grande interesse, devo dire, che ha un successo di pubblico ogni anno maggiore, quindi vuol dire che queste quattro ruote o queste due ruote o comunque questi motori che a noi ci appassionano rimangono nel cuore degli italiani. Io ho un solo rammarico che se ne faccia una l'anno perché di fatto i collezionisti, coloro che lavorano nel settore della ricostruzione, del restauro, ma anche i semplici appassionati forse avrebbero interesse a vedersela più spesso in città. Vediamo un po' se è possibile pensare a una edizione bis. Anche quest'anno la Polizia di Stato conferma la propria presenza partecipando con alcuni prestigiosi modelli del Museo delle Autostoriche della Polizia di Stato, in mostra però anche la Lamborghini Huracan, un bolide usato per trasportare organi vitali in grado di erogare 610 cavalli da un motore V10. È un veicolo in servizio ed istituto a tutti gli effetti, partecipa anche a manifestazioni, ma presso servizio sia sulla zona di Roma, sul raccordo è facile trovarla in operativa, e opera anche trasporto organi perché è attrezzata per poter in sicurezza e con le condizioni giuste poter effettuare questo tipo di servizio per la collettività. La Polizia di Stato, quindi grazie al Dipartimento della Pubblica di Sicurezza abbiamo avuto sia le macchine storiche che la Lamborghini proprio per presentarci alla città e quindi la Costituzione di Rezzi è stata ben felice di poter partecipare a questo evento e quindi dare il suo ulteriore contributo a tutti i cittadini di Rezzi.